Sto uscendo dal cinema dove ho appena visto il ragazzo e la tigre. Siete amanti dei cuccioli, vi piacciono gli animali sul grande schermo, liberi come dovrebbero essere, vi piace vedere dei paesaggi assolutamente mozzafiato? Allora dal 14 ottobre anche voi non potete perdervi il ragazzo e la tigre, anche perché dovete assolutamente scoprire il viaggio del piccolo Balmany e la sua missione di portare alla salvezza al tiger's nest la piccola tigrotta Mukti. Questo film fa veramente riflettere sull'importanza dell'amicizia anche di fronte a qualsiasi avversità. Nel cast c'è la fantastica Claudia Gerini ma se avete visto Lion riconoscerete il piccolo Sunny Power che interpreta il protagonista. Quindi mi raccomando guardate ragazzi e la tigre, fateci sapere cosa ne pensate e nei commenti trovate altre interessanti storie di amicizia tra animali e uomini, altri fantastici film da vedere.